Mi chiamo Tommaso Vivaldi, sono cassiere in un supermercato, non deve morire, non deve morire. E per tutti i problemi che ci sono alle volte, gli operai della TRV che sono andati a casa, eccetera, eccetera, delle persone che magari devono pagare un mutuo, prestiti vari, tutte queste famiglie che non sanno come fare per andare avanti in questo punto, devono mantenere i bambini e tutti.